ola ola non ci siamo rincoglioniti è che siamo per fare un test che si intitola quanto sei merda che tra l'altro voi direte ma ancora questi test per tutti i coglioni c'è stata una mini mia passo invece no perché qualcuno sui commenti c'è scritto fatene altri di questi test allora prendetevola con gli altri che commentano quindi mostra la schiamata guardate che carina la cacchina potete scaricarlo anche voi dall'app potremmo fare pubblicità le app non è vero dovrebbe pagarci quanto sei merda chi comincia allora no tutte e due perché ci si può scontrare silenzioso ok silenzioso abbiamo apprezzato la canzone allora chi fra di voi due avevo letto chi fra i due lo sperma è la merda suprema scopriamolo ok dovete rispondere alle stesse domande ah il giocatore uno deve essere proprietario del gioco ok allora quindi io sono il giocatore uno giocatore uno prendi gioco trocca lo scarbo per continuare allora nella vita conta solo l'amore si no no e lui dice no giocatore due nella vita conta solo l'amore no giocatore uno in treno ora di pranzo un bambino davanti a te piagnucola per la fame mangi il tuo panino masticandolo di gusto e senza problemi mangi il tuo panino offrendone una parte al bimbo aspetti a tirare fuori il tuo panino no io mangio il panino senza problemi no ma leggila l'altra ah è ora è un presentatore fantastico tra l'altro abbiamo una parentesi l'altra volta era a casa sua a un certo punto si sente tipo lui lo vedi che corre come un matto convinto fosse il suo gatto no poi esce e fa ah no sono dei bambini vedete piangere ah no sono dei bambini capite tipo no sono dei bambini che si stanno suicidando l'importante è che non è puma allora le risposte erano mangi il tuo panino masticandolo di gusto senza problemi mangi il tuo panino offrendone una parte al bimbo aspetti a tirar fuori il tuo panino altrimenti gli devi dare un pezzo non mangio il mio panino masticandolo anche perchè se lo offri poi senti dire non prendere roba dagli strani ok io mi faccio i cazzi miei e me lo mangio piuttosto non ti metto lì davanti e ti giri un po' e me lo mangio anche perchè cosa ne so io che pegnucola per la fame scusa infatti potrebbe volere il gameboy ma hai aperto l'acqua calda quando qualcuno si fa la doccia? sì assolutamente sì con tanto di pione anch'io sì un cucchiaio di sale di nascosto nel caffè del papà no non l'ho mai fatto devi mettere il nome? no quindi questo no perché non ci penso no io no però l'ho messo lo zucchero in un piatto salato però questo non mi mangio ti sei mette già in modo amichevole con qualcuno solo perchè ti serviva? eh sì appena tipo ha due scritti in più non vuole non mi cita comunque sì chiaramente non l'ha fatto ce lo prendiamoci per il culo nella vita si è tutti delle caculo e bisogna esserlo e bisogna esserlo chi la fa si toglie il peso? chi la fa io perdono tiro lo sciacquone e l'aspetti tiro lo sciacquone? no l'aspetti altro che tiro lo sciacquone l'aspetti assolutamente che cosa siamo? i pungible? conta solo il potere? no potere sì bene o male puoi avere tutto quello che vuoi ma senza il potere hai spento la luce in bagno lasciando al buio qualcuno? sì anch'io sì mi sa che tu sei più marta di me allora risponde al telefono è un vecchietto che ha sbagliato il numero io lo dici e riagganci camufli la voce e la prendi un po' in giro no io lo dico e riaggancio ma perché non c'ho voglia di stare al telefono l'altro giorno io camufo la voce ovviamente l'altro giorno ha chiamato una tizia no? mi ha detto salve sono quella che fa i sondaggi per il fumo bla 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 posso parlare con una persona tra i 18 e i 50 anni? e lì per lì ho detto ma e lei fa no 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 e gli ho detto guardi non c'ho tempo mia madre e tu? no guardi io ho 13 anni ah ciao piccolina allora niente tipo la mamma ha detto no fa pure bravo c'ho 13 anni l'altro non è che ho detto tipo 16 13 allora Natale un bambino sognante chiede a Babbo Natale gli dici che puoi chiedere quello che desidera chieda pure tanto Babbo Natale non gli porterà niente gli spieghi che Babbo Natale non resiste prima o poi lo doveva scoprire e chiedi pure se tu Babbo Natale non gli porterà niente ma che stronzo no scusa no gli dici che puoi chiedere quello che desidera tanto poi non glielo compri appunto allora e no però tu gli dici chiedi pure tanto e Babbo Natale non gli porterà niente no io gli dico chiedi pure tanto in cuor mio so che Babbo Natale non gli regali un cazzo e no no dai qualcosa ci si dà e no non era neanche da dire ti accorgi che un amico ha la patta di pantaloni aperta che fai? glielo dici glielo suggi istintivamente davanti a tutti glielo fai notare dicendo glielo in un orecchio non glielo dici niente mantella sguignati facendolo notare anche agli altri sì anche io non gli dico niente glielo dico a tutti gli faccio le foto lo taggo su facebook e poi glielo dico sei in un parco con gli amici ma dove fai il parco? non è una domanda per genova uno di questi dorme ha un insetto e un insetto si sta avvicinando al suo viso che fai? toglie l'insetto con un colpo ninja sperando di non svegliarlo svegli l'amico per evitare che ah no che l'insetto la curiosità è tanta aspetta di evitare cosa fa sì questa sì sì no la curiosità è tanta aspetta di vedere cosa fa oh è andato andiamo a vedere il risultato ok vabbè si è impallato wow siete delle belle merde ma vediamo fra voi chi lo è di più? tu io 653 contro 553 guardati di segni della merda vedete che carina scusa c'è ancora no no ora riappare che delusion no no me lo sei e con questo direi che possiamo salutare così ciao grazie a tutti grazie a tutti